La prima tappa è andata, parlo piano perché è tardi e questa notte devo scappare a letto. Oggi un po' più chilometri del previsto, 81 e mezzo, invece di 76, ma una grande compagnia. Paolo, Riccardo e Foglio mi ha accompagnato a corsa e Tommaso in bici, grandi. Domani 60 chilometri e 1450 di dislivello si arriva a Smartno. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, una notte. Ciao.